Allora abbiamo realizzato con Emiliano il brush pad, che è questa percussione applicata sul contrabbasso che alcuni di voi hanno già visto che è? che è? Rick? Quello? Quello lì? Questo è il brush pad realizzato con pelle sabbiata che ora vedete un po' sporca anche tensivo qui ci sono i piedini regolabili, montabili, smontabili se non lo smonto sono inclinati quindi potete adattarli a qualsiasi superficie del nostro contrabbasso e niente, è disponibile sul mio sito, poi vi linko tutto nella descrizione e la pelle una volta che si consuma si può sostituire tranquillamente e niente, adesso vi facciamo sentire come suona e non lo so e non lo so e non lo so e non lo so sono andata e non lo so non lo so No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao a tutti!